Una vera e propria tragedia a Battipaglia, dove una donna di 84 anni, Modestina Caruso, sarebbe morta per una caduta mentre passeggiava in Litorania. La donna, che si era allontanata di casa il 26 pomeriggio, è stata ritrovata ieri priva di vita dai carabinieri agli ordini del comandante Luca Geminale a Campolongo, sul litorale di Eboli. Purtroppo non è servita la mobilitazione dei familiari e conoscenti della donna per tentare di intercertarla dopo essersi allontanata dalla propria abitazione. La signora era conosciuta, stimata ed apprezzata e sui social in tanti hanno voluto lasciare un messaggio di condoglianza ai familiari.